Ciao a tutti e benvenuti nel canale di BrasilItalia. Ci sono molte cose che negli altri paesi funzionano molto bene. Sarà che anche qui in Brasile potrebbero funzionare? Io penso che qualunque straniero che venga in Brasile, anche solo per poco tempo, non necessariamente per viverci, noterà che alcune cose che nel proprio paese erano normali di vita quotidiana, qui in Brasile praticamente non esistono. Io ne ho trovate qualcuna. Andiamo a vedere se qui in Brasile potrebbero esistere, se andrebbero bene o no. Allora, se c'è una cosa che in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo, si stanno, come dire, evoluendo, sono le casse automatiche. Casse automatiche io intendo quelle casse che non c'è bisogno di avere lì il cassiere, il commesso che ti aiuta a comprare la cosa, che ti passa gli articoli. Sei proprio tu che da solo passi gli articoli nello scanner, li metti nel tuo bel sacchetto di plastica, quello che è, e paghi con un banco, una carta di credito o addirittura in contanti. Se ne trovano più che altro in quei grandi negozi, in quei grandi supermercati, in tutti quei posti dove c'è un grande afflusso di clienti. E sono molto comode, perché in questo modo eviti di fare la fila, perché lo sappiamo tutti. Molte volte, sia in un supermercato, sia in un altro negozio, specialmente se c'è molta gente, passi molto tempo in fila con il tuo carrello, con la spesa che hai fatto, prima di poter pagare, prima di poter uscire. Mentre se tu vai in una cassa automatico, di solito c'è sempre poca gente, più veloce, ti, come ho detto, paghi i tuoi prodotti, e dopo puoi uscire tranquillamente. Simile a questo sistema, ci sono, specialmente nei supermercati, le, come potremmo dire, le bilance che, specialmente nel reparto frutto e verdura, se tu che compri la verdura che vuoi, la metti in un sacchettino, e la pesi, e ti dà già il prezzo esatto di quel determinato prodotto. Bene, qua in Brasile, io queste cose qui non le ho mai viste. Ora, non vi so dire se, che ne so io, a Curitiba, a Florianopoli, insomma, in un'altra città del Brasile, magari più grande, più moderna, di Sorocaba, esistono. Però, a me sembra di no. Ma può darsi che esista qualcosa. Comunque, in ogni caso, io non le ho mai viste. Ma, andrebbero bene qua in Brasile? Funzionerebbero? Una persona, qua in Brasile, che compra quello che vuole comprare, e sia lui a dover passare, appunto, gli articoli, imbustare, e pagare, con la carta di credito, con un banco, ma come vuole. Sarà che potrebbe funzionare? Io, sinceramente, ho qualche dubbio. Qualche dubbio, per diversi motivi. Primo di tutto, che qui, come molti sanno, diciamo che l'ho legato in tante volte, è inutile negarlo, ai brasiliani piace essere serviti. Basta vedere, appunto, in un qualunque supermercato. Quando voi andate alla cassa, è sempre il cassiere che passa gli articoli, che vi imbusta addirittura i prodotti, che li mette, appunto, nel sacchetto. Se non lo fa il cassiere, c'è un addetto opposta per mettere i vostri prodotti in un sacchetto, che per me è una cosa assurda. Quindi, questa idea, appunto, che una persona brasiliana preferisca fare tutto questo processo da solo, lo vedo un po' male, diciamo così. Poi, ad esempio, la bilancia, appunto, per pesare i vari prodotti, la frutta, la verdura, quello che volete. Facciamo un gioco. Immaginate che, in un supermercato, una persona compri, appunto, che so io, dei pomodori. Però di questi pomodori ce ne sono, come dire, due tipi, di due prezzi diversi. Uno che costa di meno e uno che costa di più. Questa persona compra, mette nel sacchetto i pomodori più belli, quelli più cari, però poi, quando l'ha nella bilancia, seleziona i pomodori più economici. in questo modo, per risparmiare, per, usiamo il termine, per fregare qualcuno il supermercato. Questa persona, secondo voi, è un italiano, un norvegese, un giapponese o un brasiliano? Pensateci un attimo. Io immagino che la maggior parte di voi abbiano pensato che questa persona sia un brasiliano. Perché? Perché è inutile negarlo. Quest'idea che il brasiliano è una persona, come dicono qui, malandra, quindi, che è irrispettosa, che ama fregare il prossimo, che trova, che cerca in tutti i modi di fregare qualcuno, che sia un'altra persona, lo Stato, qualunque cosa. Purtroppo questa idea c'è e questa idea purtroppo non è finta, è vera. Ora, non sto dicendo che tutti i brasiliani sono disonesti, sicuramente anche quella persona magari è un italiano, magari era un norvegese, quindi, perché le persone disoneste ci sono in tutti i paesi. Però, purtroppo, questa fama del brasiliano, diciamo disonesto, purtroppo c'è e, come ho detto, purtroppo non è una cosa inventata. Purtroppo moltissimi brasiliani sono in questa maniera e quindi, a mio parere, anche questo sistema della bilancia per poter pesare i prodotti, io penso che qua in Brasile non potrebbe funzionare. altra cosa in Italia, ma come ho detto anche nella maggior parte d'Europa e penso nel mondo, i bus, i tram, il metro non hanno quello che loro chiamano qua in Brasile catraca, quindi quella specie di porta di ferro girevole che si è obbligato prima a mettere il biglietto nell'apposito locale dove si mette il biglietto e poi appunto per poter passare. In Italia questo non succede, quindi prima di entrare nell'onibus del bus o nel tram compri il biglietto e dopo entri tranquillamente. Ogni tanto può capitare che salga sul bus un controllore, una persona che ti chieda se tu hai biglietto se non ce l'hai ovviamente dovrai pagare una multa però non c'è questo sistema che sei obbligato a passare attraverso questa questa girello chiamamolo così che dà molto pastiglio. Qua appunto un sistema del genere funzionerebbe immaginate se qui in Brasile non ci fosse la catraca nei vari bus quante persone veramente acquisterebbero un biglietto? Io penso molto poche qui addirittura pur avendo la catraca chiamo catraca perché non so il termine esatto in italiano però chi è in Brasile sa cosa voglio dire quindi qua addirittura pur avendo la catraca può succedere che alcune non molte ma alcune persone specialmente giovani scavalchino pulino la catraca addirittura avevo letto da qualche parte tempo fa che avevo l'intenzione di mettere due catraca proprio per evitare questo problema per evitare che una persona potesse saltare superare questo piccolo girello perché di solito è a livello della vita quindi anche questo sistema di non avere questa forma di sicurezza per fare in modo che tutti siano obbligati per comprare il biglietto qua in Brasile purtroppo è obbligatorio quindi l'idea di non avere questa maledetta catraca è impossibile da immaginare qua in Brasile perché il motivo l'abbiamo detto prima purtroppo qua in Brasile ci sono molte persone disoneste è brutto da dire però è purtroppo è vero molte persone che cercano di fare furbi che si credono furbi cercando di fregare il prossimo poi un'altra cosa sempre chi è venuto in Brasile chi vive in Brasile questa cosa quale nota facilmente negli altri paesi in Italia in Europa negli Stati Uniti la maggior parte delle case anche le case belle le classiche ville di solito non hanno un muro molto alto per il contrario di solito il giardino il terreno è delimitato di un muretto magari con un piccolo cancellino o addirittura da una siepe perché perché negli altri paesi non c'è così tanto pericolo come qua in Brasile qua in Brasile tutti noi sappiamo come sono fatte le case vediamo come sono i muri sappiamo che qua in Brasile molte case ma non solamente case belle case di ricchi ma proprio anche le case semplici di persone semplici hanno sono obbligate a mettere dei sistemi di di sicurezza che fanno quasi paura quindi vedete vedete case con dei muri molto alti il cancello sia del garage oppure di entrata è tutto chiuso per non far vedere quello che c'è dentro o per non far passare qualcuno qualcosa sopra il muro di solito trovate sempre o quello che loro chiamano cerca elettrica quindi un sistema appunto di elettricità in modo che uno non possa scavalcare il muro se non mettono quello mettono quella specie di filo spinato tutto intorno telecamere di sicurezza quindi questo solamente per poter vivere dentro casa e quindi succede che praticamente le case diventano delle vere e proprie prigioni ma in tutti i sensi sia esteticamente quando voi le vedete da fuori vi sembra veramente una prigione ma poi anche per chi vive diventa una prigione perché se è obbligato a stare qui al chiuso dentro non riesce a vedere quello che c'è fuori io per esempio a parte il muro di fuori che dovrebbe essere alto intorno di tre metri ma poi ho due praticamente cancelli prima di uscire sulla strada e la mia casa è molto semplice ma purtroppo è così quindi anche questa cosa l'idea di poter costruire di vivere in una casa con dei muri bassi qua in Brasile è impossibile ora lo so qualcuno mi potrebbe dire ma Franco è ovvio che qua in Brasile non puoi avere le case come negli altri paesi del mondo perché qui c'è molta violenza ci sono molte assate quindi non puoi pensare di non avere un muro alto di non avere tutti questi sistemi di sicurezza allora sì è vero purtroppo non sono io l'unico a dirlo quindi basta leggere le statistiche leggere i giornali il Brasile è uno dei paesi più violenti del mondo ma non è l'unico non è il più violento non è il peggiore ci sono altre città nei vari paesi del mondo che hanno ugualmente un alto livello di violenza di assalti di omicidi facciamo un esempio due città molto violente a parte che so io Rio de Janeiro o altre cose a me viene in mente città del capo in Sudafrica e che ne so io Detroit negli Stati Uniti anche loro hanno un elevato livello di criminalità di omicidi di assalti ora guardate come sono le case in questi paesi questa che vedete è praticamente la periferia di città del capo vi sembra uguale a Brasile eppure anche lì gli omicidi e gli assalti non sono cose da ridere questa qui è sempre diciamo la periferia comunque è un quartiere non è il centro di Detroit guardate come sono le case vedete dei muri dei sistemi di sicurezza come qua in Brasile no quindi questa idea che qua in Brasile si vive in questo modo solo perché c'è un alto tasso di criminalità di omicidi di assalti sì è vero però non è l'unico motivo per cui uno debba vivere in questo modo il problema sapete qual è il mio parere è che ormai i brasiliani si sono come dire abituati a tutto questo quindi per loro tutto quello che c'è esiste funziona qua in Brasile è normale ma non è così esattamente il contrario il normale è quello che succede negli altri paesi è qui che è diverso è qui che è sbagliato un'altra cosa che molti brasiliani se vedete tutti quando vanno all'estero si meravigliano sono praticamente i bancomat quindi le casse elettroniche fuori all'esterno senza nessuna protezione qua in Brasile tutte le casse elettroniche praticamente sono dentro nella banca per entrare dentro è già un processo difficile c'è quella maledetta porta giratoria che tutti odiano ma tutti sia stranieri che brasiliani è la cosa peggiore entrare in una banca qua in Brasile è una cosa che è da stress perché c'è questa porta appunto giratoria questa porta girevole è sempre legato a tirare fuori il cellulare tutte le cose di metallo c'è sempre lì di fianco è una guardia di sicurezza che ti controlla a volte la porta si ferma perché magari hai dimiticato le chiavi in tasca insomma è una gran rottura di coglioni entrare in una banca qua in Brasile e quindi anche i banco ma anche le casse elettroniche non le troverete mai all'esterno sono sempre dentro questa banca e per quale motivo? il motivo è sempre quello perché qui è molto facile venire assaltati qui è una cosa incredibile adesso è già da un po' di tempo che non sento più notizie del genere ma qui c'è l'abitudine che gli chiamavoli delinquenti quando vogliono rubare i soldi in una cassa elettronica o in una banca vanno lì con la dinamite dentro nella cassa elettronica dentro nella banca per far saltare tutto solo per prendere un poco di denaro cioè fanno delle cose assurde incredibili distruggono tutto per poter prelevare un po' di denaro per poter rubare un po' di soldi quindi l'idea è di avere appunto un banco ma una cassa elettronica fuori all'aperto senza problemi come c'è comunemente in Italia in Europa nel resto del mondo qui è letteralmente impensabile un'altra cosa che qui praticamente non funzionerebbe non avrebbe successo proprio penso proprio di no sono come potremmo dire i fai da te self-service facciamo un esempio il lavaggio auto automatico self-service io in Italia come la maggior parte degli italiani come la maggior parte anche nei paesi del resto del mondo è molto facile che il lavaggio auto sia appunto self-service quindi uno va lì mette la 2-3 euro quello che serve è da solo con la canna dell'acqua con la pistola con la schiuma si lava la sua bella macchinina tranquillo spende pochissimo e non ha problemi qui tutti i lavaggi auto sono con persone con funzionari quindi ci sono persone proprio che ti prendono la macchina te la lavano te la puliscono te l'asciugano e dopo te la ridanno perché perché è impensabile per un brasiliano fare questo da solo l'ho già detto lo ripeto lo ripeterò ancora ai brasiliani piace essere serviti non riescono nemmeno a concepire di fare una cosa da solo questo ho avuto modo di di vederlo di confrontarlo in mille occasioni sia appunto quando uno entra in un negozio io la prima cosa che faccio entrare in un negozio è appunto vedere il negozio vedere i vari prodotti toccarli non so come dire se poi trovo qualcosa che mi interessa e ho bisogno delle informazioni allora in quel caso chiamo il commesso per avere appunto delle delucidazioni per avere più informazioni che mi potrebbero servire qui fanno il contrario a parte che qui i commessi sono loro i primi a venire e ti incontro che è una cosa che dà un fastidio terribile ma sono proprio i brasiliani che vanno a cercare il commesso questa è proprio la loro abitudine capita anche con mia moglie quando io vado dentro un negozio qualunque negozio come ho detto io prima entro e faccio gli affari miei e guardo quello che vuole mia moglie è la prima a dire Franco chiama qualcuno ma no chiamare chi fammi prima vedere fammi prima guardare se poi bisogno lo chiamo quindi questo concetto di avere qualcuno che ti serva per qualunque cosa purtroppo è nel DNA dei brasiliani non possono farne a meno quindi ripeto l'idea di vedere un brasiliano che lui da solo mette i soldi nella macchinetta si lava la sua bella macchinina se l'asciuga e dopo va a casa per me è letteralmente improbabile altro esempio che potremmo fare è tipo il benzinaio qui non esistono benzinaio self service qui anche a lunedì notte alle 3 del mattino troverete sempre un benzinaio aperto con persone col benzinaio lì di fianco che vi sta aspettando è inconcepibile per un brasiliano fare lui la benzina da solo quindi mettere i soldi nella cassa automatica e poi fare il pieno mettere la benzina può andare via non c'è questa idea oppure come in Italia facevi tu la benzina da solo oppure avendo lì il benzinaio come dire nella stazione di servizio e dopo andare tu in cassa a pagare non esiste ripeto il motivo è perché a loro piace essere serviti il motivo perché in questo modo chi ci assicura che dopo aver fatto benzina l'automobilista brasiliano non prende la macchina e vada via senza pagare ripeto sono cose forse brutte da dire ma ragazzi la realtà è questa e un'ultima cosa che mi viene in mente che qui in Brasile sarebbe letteralmente improponibile è l'IKEA allora io amo l'IKEA mi è sempre piaciuta ho comprato moltissime cose dell'IKEA a mio parere ha dei mobili molto belli e ha dei prezzi ottimi in Italia ovviamente so che molta gente dice no i mobili dell'IKEA fanno a pagare no tutte balle tutte balle cioè io tutte le cose che ho comprato dell'IKEA erano una meraviglia di mobili se dite così perché non avete idea di come sono i mobili qua in Brasile però a parte questo qui in Brasile l'IKEA è letteralmente improponibile un po' per il prezzo perché ovviamente non potrebbe avere dei prezzi così competitivi come ce li ha in Italia o negli altri paesi ma poi è proprio il sistema che usa l'IKEA per vendere che non va bene qua in Brasile allora che è già stato l'IKEA lo conosce bene ma per chi non lo sapesse l'IKEA funziona così tu entri comincia a girare i vari reparti vedi tutti i mobili gli accessori tutte le cose che hanno e devi se devi comprare qualcosa prendere nota del modello dell'articolo che tu vuoi comprare ti danno una lista un metro una matita quindi ti danno tutto per fare tu da solo e quindi molte cose alla fine alcune cose piccole le puoi già prendere lì mettere nel carrello nella borsa dove vuoi però ad esempio i mobili dopo quando esci devi passare diciamo dal chiamamolo dal magazzino prendere tu i tuoi mobili smontati metterli nel carrello pagare magari pagare con la cassa automatica caricarli tu in macchina e poi quando arrivi a casa montarli questa idea sarebbe assurda per un brasiliano non potrebbe non potrebbe nemmeno immaginare di non avere nessuno che lo aiuti di non avere nessuno che lo aiuti a scegliere quello che deve comprare a prendere le cose che deve prenderle che deve appunto sempre comprare mettere da solo caricarle in macchina da solo addirittura arrivare in casa e montarli da solo non esiste non puoi fare queste cose in Brasile qui qualunque cosa specialmente riguardo di mobili praticamente tutti te li portano a casa è molto difficile che uno si compri qualcosa e se lo porta a casa con la propria macchina il negozio te lo porta a casa alcuni pagando una piccola maggiorazione altri no però alla fine tutti te lo portano a casa e tutti te lo montano quindi prima te li portano a casa il mobile e dopo dopo qualche giorno viene un addetto un montatore di mobile che ti monta il mobile a casa quindi quindi questa idea non solo di comprarlo da solo e di caricarlo in macchina da solo di portarlo a casa da solo ma addirittura di montare il tuo mobile che può essere tipo una libreria come un tavolo come quello che volete è letteralmente improponibile impensabile qua in Brasile bene in questo video ho appunto voluto mostrare alcune cose che per me italiano comunque per gli stranieri sono normali nel mio paese ma che qui in Brasile purtroppo non sarebbero applicabili se a voi viene in mente qualcos'altro lasciatemi lo scritto lasciate un commento e vediamo appunto di discutere di questa cosa qua che trovo tutto sommato interessante e come sempre dico se il video vi è piaciuto se lo avete trovato interessante mettete un like e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao